Bellissimi, buongiorno, sono il vostro Grax che vi aggiorna su tutto. Ieri ho fatto pure uscire uno short su un TikTok, ne parliamo bene in questo video perché sappiamo esattamente la data del prossimo Brawl Talk, di conseguenza l'aggiornamento, di conseguenza il Megapig. Ci saranno due Megapig, seguite il video ve ne parlo, lasciate un pollicione, almeno 5.000 like per altri video. Se volete un video dove magari vi porto tutto il mio pronostico sui prossimi aggiornamenti, su quello che vedremo, iscrivetevi e campanella. Ne mancano 4.000 per il milione e 9 e Grax se toglie la barba, cosa importantissima, oggi alle 13.30-14 torneo per gli iscritti, vedete che si matcha bene, dove Grax va a regalare, vi faccio vedere direttamente da qua, il Pass Plus. Sta a voi, troverete la live su YouTube, Twitch, TikTok, ovunque, basta che siete iscritti. Ovviamente codice Grax alla Fiollo Shop, anche perché ragazzi devo rientrare della spesa incredibile di soldi che ho fatto su Brawl Stars e trovate il video nelle schede. Stoco, Zan e Alex, seguite tutto il video, ci manca una sola partitella pulita, in caso di vittoria, per prendere l'ultimo star drop classificato di questa classificata di questo mese. Ci sarà una skin? Io lo spero, seguite tutto il video. Prima però andiamo su X. Ah, e Alex e Zan li trovate in descrizione. Siamo su X e ieri, io lo sto registrando in tempo reale, c'è stata una notizia bellissima riguardante il Megapig. Perché? Che cosa è successo? Il Megapig ci sarebbe dovuto essere questa settimana e tra l'altro era andato pure nel feed, tipo c'era scritto mancano 3-4 giorni. Ora lo hanno aggiornato, il Megapig ci sarà tra 16 giorni più o meno. Per quale motivo? Perché il Megapig non è stato fixato. Nel senso, vi ricordate quando, durante la fine dell'evento delle Megacasse, doveva esserci un Megapig? Quel Megapig è stato tolto per problemi di matchmaking e lo sostituirono con più gettoni, più Megacasse, anticiparono la sfida, tutti contenti, anche se le Megacasse erano scam. E quel Megapig non l'abbiamo più recuperato, l'avevano compensato, tra virgolette. Dato che non hanno fixato quel problema, perché in questo mese non ci sono stati degli aggiornamenti, pure questo Megapig sarebbe stato un problema a livello di matchmaking. E allora, che hanno fatto? Il problema di matchmaking che riguardava il Megapig verrà risolto con il prossimo aggiornamento, quindi abbiamo posticipato il prossimo Megapig al 30 agosto. Ma perché il 30 agosto? Tutto avrà senso nel prossimo Brawl Talk in arrivo il 24 agosto. Ebbene sì, sappiamo la data precisa, il Brawl Talk ci sarà sabato 24, che poi combacia con il Last Chance Qualifier dell'ABSC. Di solito l'aggiornamento lo fanno il mercoledì, martedì della settimana dopo, quindi parliamo di 27-28 di agosto, anche perché il giovedì 29 dovrebbe partire il pre-release del brawler, del primo brawler che verrà presentato nel Brawl Talk. E cambierà il pass il 5 settembre. Tutto ve torna? Dato che l'aggiornamento ci sarà il 27 o il 28, riusciranno a risolvere il problema del Megapig, che verrà droppato in game il 30. Tutto torna. Per farsi perdonare, stiamo unendo i Megapigs di agosto e settembre per formare un Megapig in cui puoi ottenere le ricompense di 2 Megapig. Quindi non è la compensazione del Megapig, quello di luglio, dove c'è stato il problema di matchmaking e ci hanno dato le megacasse. Ma perché niente Megapig a settembre? Potrebbe anche essere, attenzione, che il Megapig continui, ma che per quanto riguarda quello di settembre, infatti specificano proprio, ma perché niente Megapig a settembre? Perché probabilmente perché a settembre mettono un evento, dove ci sarà il maialino di SpongeBob, quello di settembre viene sostituito dall'evento del fondale marino. Vabbè, quello che interessa a noi, di certo è che il 30 inizia il Megapig con 40 star drop, giocatelo perché potrebbero da, sempre se siete fortunati, potrebbero uscire 2 star drop, 3 star drop leggendari e vi maxate l'account, ma tanto sono tutti i pin. E giustamente in chat ci fanno sapere l'evento potrebbe essere un evento club. Ed ecco che torna la collaborazione 100%, tutto torna come per Godzilla, che tramite club, l'ovetto, prendevamo la skin hyper. If you are not in a club, join a club. Mi sa che anche per Godzilla il Megapig non c'era, si gode, sto mese, doppio Megapig, non ci scammano quello di settembre e a settembre ci sarà l'evento. Sperando che non sia solo l'evento, quello che riguarderà poi l'aggiornamento. Grax, v'aggiorna su tutto, alcune cose non le avevo capite neanche io, le abbiamo capite in questo video bene, fate benissimo ad ascoltare i video. E ora andiamo a prendere lo star drop, magari speriamo sia di buon auspicio per i 40 che poi apriremo il... No, il 30, automaticamente. Il 30 comincia il Megapig, li apriremo lunedì 2 settembre. Siamo con Alex e Zan, siamo tutti nelle vesti di Grey. Per quale motivo? Perché stavamo cercando di indagare sul caso Lollo, ban, ne parleremo. Anzi, se volete un video al riguardo dove esprimo la mia sul discorso Snipe, cose, fatemelo sapere. Finatevi, belli miei, il video quello che sembrava una sorta di avvocato, giudice che leggeva la Costituzione, un parlamentare, non lo so. Il video dell'articolo 1.1. Recuperatevi quel video. La Supercell è molto severa in questo periodo, non si può più sgarrare, ragazzi. Sandy rubata. Che cosa andiamo a scegliere? Qui hanno bannato i Drawer, hanno bannato Cilindo, bannato Barry. C'è Sternita Dynamike, Stu, Basterd, Sandy. Tutti, diciamo, raggio d'azione abbastanza corto, ce l'abbiamo tutti quanti cortissimo. Tra nel Dynamike che te fa Steph Curry da 3. Due vittorie, star droppino e poi ci becchiamo alle 14 con il torno dei Grax. Non mancate, perché volerà un altro Pass Plus e altri sordi dei Grax. Se ne volete altri, fatemelo sapere, altre scioppate. Però per me è un ritorno, quindi lo faccio più che volentieri. E per supportare anche la community che siete bellissimi. Ok, togli lo Stu, if possibile, Grax. Guarda come si muove. Oh, e fermate, frate, eh. Cioè, Sandy con uno sputacchio di vita. Ti è rimasto un respiro, Sandy. Eh, adesso non più. Tanto colpettino goliardico, golosissimo. Guarda che è goloso questo, eh. È goloso sto colpetto. C'è tiro un orso. Cerco di stunnare il Baster. Stunnato il Dynamike fa malissimo. Eh, Sandy può darci grossi problems. Quindi cerchiamo di rimanere un minimo safe. C'è Stu che colpisce e scappa, il maledetto. Guardalo come carica la ulti. Baster può respingere i colpi. Ok, vuole andare di ulti, lo so. Mare spinto. Bomboclat. Quello l'abbiamo tolto. Bomboclat davanti. Sandy non è il problema. Sì, vabbè, frate. Sì. Hai per ulti. 10 K di vita, fratello. Ah, poto fare forse qualcosa in più, però arriva il bombolone da parte di Chester. Stun su... Si era creato il pertugio. Grande combo di Zan e Alex. L'è spinta. Non è un problema. Sandy, ripeto, raggio d'azione molto corto. Vorrei caricare un altro orsetto. Lo metto subito. E Sandy deve sprecarci un botto di danni. Infatti cerca l'aiuto da parte di Baster. Buona la kill. C'è Alex con la ulti. Buon bolone. Danni su Sandy. Easy peasy. Sì, la prima è andata e non ho fatto in tempo a fare il mewing, ma vi faccio il vero mewing, che è bellissimo. Altra cosa. Dato che abbiamo parlato di aggiornamento, no? E dato che è stato segnalato questo problema, mi sembra, ad aprile, più o meno, verrà fixato il famosissimo, il celeberrimo spray del Super Krieto. Che nessuno è stato in grado di vedere. Non so com'è sto spray, se è bello, se non lo sappiamo. Sì, ce lo faranno vedere e lo fixeranno, saremo tutti molto contenti, ma probabilmente non è la priorità per loro. Per loro non è la priorità risolvere le cose dei Super Krieto. Ma chi sono i Super Krieto? Sti gran gatti, ma dai. Lasciamo perdere. Allora, occhi a Sandy. Fammi caricare l'olso, please. Se no, io sto a far ricaricare solo la ulti, è un problema. Non ho colpito, esco fuori dal raggio. Qua ci potrebbe stare Baster. Buona la kill su sto. Sandy. Ok. Vieni qua, Sandy. Te voglio fare un mewing, Sandy. Mewing. Ecco Sandy che c'è lo stun. Grosso stun, userei di dire. Danni lì, ok. Ci metto l'orzacchio. Ci metto lo stunnetto. No, ho smirato due colpi, ha sperato pure la ulti. Non è un problema. Palla di qua. Palla di qua. Così la deve andare a prendere. Eccolo lì, Sandy. Sto apri. Allora, mi ha fatto male. C'è un orzacchio. Ah, poto mettere l'hyper? Avrei potuto mettere l'hyper? Grossa parata di Alex! Ci riprova! Eh, ci sta. 1-0 buono. Eh, devo mettere l'hyper io. Era fondamentale l'hyper. Bella partita comunque, eh. Ci piacciono queste partite così. Ci piacciono. Belle tese. Luce al grappa. Attenzione. Ulti. E hyper sandy. Eh, non vedo nessuno. GG. Gran bella partita. Io stavo a chiacchierare e ho sbagliato. Dove essere molto più focus. Molto più sul pezzo. Vai Alex. Buono lo stun. C'è il basterino. Un altro colpetto. Perfetto. Andiamo ad andare giù sullo stun. Se ci riusciamo. Ok. Passaggetto laterale e pressiamo in avanti. Sandy colpisce. Stu, fermate, frate. Buono quel danno. Subito orzacchio. Subito stun. L'ha difeso però, Buster. L'ha difeso. Occhio. Non vorrei lasciare lui da solo verso la porta. Vuole aprire. Qualche danno l'ho fatto e mi metto qua dietro. Non sarà facile, secondo me, portare a casa. Lo star drop classification. Perché qui ci hanno chiuso. O mi stacco un minimo io. Provo a caricare un altro orso. Solo l'orso. Ok. Bene. Si può andare avanti veloce. Però ci ha fatto comunque male. Ah, la palla laggiù non ho benissimo. Danni, 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 danni. Danni, danni, danni. Ole. Bene. Non era facile questa. Benissimo. Una mezza apertura. Se la ultima fosse stata fatta laterale, forse era ancora meglio. Occhio. Preso. Presa. Subito orzacchietto. Vai che sono crollati. Vai che sono crollati. Vai che sono crollati. Vai, Alex. No. No. Sì. Grosse bo... No, 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 no. Aspettate perché Sandy... Sandy sempre molto golosa. Ok. Mi servono altri colpetti per l'orso. E c'è anche quasi l'hiver. Non è facile. Lì c'abbiamo il Buster ultilaterale. Sandy l'abbiamo vista. Stuccia la ulti. Prova il tiro. Ole. Benissimo. Non ho provato il tutto per tutto. Occhio alla ulti. Sì. Mi basta un colpetto. Se faccio ulti e orzacchiotto... È praticamente fatto. Ulti. Orzacchio. Stun. Danni per le statistiche. Vai orso, vai orso, vai orso. Non ne metto un altro perché sennò poi lo sostituisco. Stardroppino. Cosa c'è qui sotto, belli miei? 7-2, onesto. Legend 3. Però devo stare in silenzio perché altrimenti si sente il contenuto. Bene, 94. Neanche tantissimo. Non abbiamo sentito nulla. 9% skin, 57% bling, 34% cosmetico. Ovvero avatar. 250. Bling. Ragazzuoli, fatemi sapere cosa ne pensate del Megapig. Probabilmente arriverà un evento club. È molto, molto probabile. Ovviamente fate quello del 30, che so, 40. Stardrop e si gode. Zan e Alex in descrizione. C'è sta pure Yoshino. Abbiamo fatto dei push prima. Trovate tutti in descrizione. I miei ragazzi. Le mando un bacione. Like, iscrizione e campanella. E codice Grax alla fine dello shop. Ci stanno pure le skin a sconto. Oh, Lash Pizzaiolo. A 39. Le devo prendere? Che poi però, vabbè, sono quelle coi bling. Boh, vabbè. Ciao belli, ciao ciao.